Parliamo oggi di respirazione diaframmatica. La respirazione ha un'importanza fondamentale perché è uno dei movimenti più comuni che facciamo e anche perché ha un'influenza diretta sulla postura. Qualcuno erroremente crede che per inspirare correttamente col diaframma la pancia debba andare in fuori. Sono così andato a riprendermi il mio vecchio libro di kinesiologia applicata per capire esattamente se fosse vera questa cosa. La realtà è il contrario. Per respirare correttamente gli addominali devono rimanere contratti. In questo modo il diaframma ha qualcosa su cui aggrapparsi e può abbassarsi al massimo e espandere la gabbia toracica fino in fondo. In effetti questo ha anche una correlazione diretta con la postura perché inspirando con la gabbia toracica siamo più portati a raddrizzarci e a portare la pancia in dentro attivando gli addominali. Per cui iniziamo a correggere questa cosa e vedremo come cambia la postura. Questo è il mio esercizio per oggi per voi quindi. Fate dei bei respiri tenendo la pancia in dentro e aprendo questa zona e vedrete che automaticamente la postura migliorerà. Buon lavoro, grazie.